Io dico sempre che la mia necessità di fare comunicazione ambientale nasce dal fatto che i miei genitori mi hanno portato in montagna fin da piccola e quindi conosco la natura da dentro da sempre e l'ho amata e ne ho bisogno, ne ho bisogno tanto quanto dell'ossigeno e dell'acqua ed è per questo che oggi vi propongo due libri di narrativa tutte e due che trattano della relazione che l'essere umano ha con la montagna, semplificando. Sono due libri che ho letto un po' di tempo fa e che mi sono rimasti veramente dentro, soprattutto in forma di emozioni, immagini, luoghi, sensazioni che è esattamente quello di cui ho bisogno quando sto troppo a lungo in città e quello che cerco quando vado in natura per cui ve li consiglio soprattutto per questo, per sentire anche voi il richiamo della montagna o della natura in generale. Il primo libro è Paolo Cognetti, Le otto montagne, famosissimo, ha vinto anche il premio strega. Avevo già letto un libro suo prima che era ancora a mio avviso immaturo, invece questo qui è scritto divinamente, ha delle descrizioni di ambiente, di montagna che io non so come faccia, è veramente incredibile, cioè ci entri proprio dentro. Il secondo libro è questo, di Thor Björn Eichelund, che sicuramente ho pronunciato sbagliato, Il bambino e la montagna, e parla di un viaggio di un padre con un bambino alla scoperta dei luoghi dove un bambino nel lontano 1894 si era perso e non si è mai più trovato. Mi piace tantissimo la relazione tra il padre e il figlio, mi piace tantissimo come affrontano la montagna in maniera diversa, il bambino scoperta, gioia, gioco, il padre invece anche senso di responsabilità, paura verso una natura che è totalmente indifferente a quello che noi facciamo, e anche la fascinazione, l'essere staccati, scollegati, immersi. Quindi consiglio questi due libri essenzialmente per far venire anche a voi la voglia, il bisogno di natura e di conseguenza la necessità di volerla tutelare.